Avevano rubato delle biciclette a turisti francesi di passaggio a Barletta, ma sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di tre persone, tutte quante fermate per furto, aggravato e tutti senza fissa dimora, ma censurati. I carabinieri, infatti, durante uno dei numerosi servizi di prevenzione atti a contrastare proprio i reati predatori e a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero di pronto intervento 112, si sono recati presso il supermercato Lidl di Barletta, sito in via Foggia, dove alcuni turisti francesi, che si erano fermati poco prima per fare la spesa, avevano subito il furto delle loro biciclette asportate dalla rastrelliera del loro camper in sosta e alla quale erano assicurate da una robusta catena. Nella circostanza le vittime hanno riferito ai militari che, mentre uscivano dal supermercato, avevano già notato un furgone di colore bianco allontanarsi dal parcheggio. I carabinieri, coordinandosi con la centrale operativa, hanno intrapreso subito le ricerche del furgone sospetto, diramando anche le ricerche a tutte le autoradio in zona. Sono bastati pochi minuti e che la stessa gazzella si è messa sulle sue tracce, è riuscita ad intercettarlo e a bloccarlo con a bordo i tre stranieri e ancora le biciclette rubate. Così per tutti e tre, un classe 97, un classe 96, un classe 90, tutti stranieri, sono scattate le manette dopo gli atti di rito. Per loro si sono aperte anche le porte della casa circondariale di Trani. Le biciclette recuperate del valore complessivo di oltre 1000 euro sono state poi restituite ai legittimi proprietari, a cui rimane il ricordo di una disavventura terminata però agli etofine e che hanno ringraziato i carabinieri per la solerzia e l'efficacia.